Della sua opera Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832 Della sua opera I dolori del giovane Werther disse che l'aveva scritta in uno stato molto simile alla trans e ancora Ho scritto le cose mie come un sonnambulo e sono le poesie a fare me e non io loro Perché? Commento Perché molti artisti, anche inconsapevoli creano le loro opere a cavallo tra il piano fisico e il piano astrale in uno stato di coscienza chiamato trans-ultrafanica Grazie a tutti